ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di nero corvino oggi torniamo a parlare di n ed erbe tintorie in particolare vorrei fare una piccola panoramica sulle n e quelle che sono le erbette tintorie e le erbette riflessanti una sorta di mini guida in particolar modo per coloro che si approcciano al mondo delle erbe per la prima volta innanzitutto la cosa super importante che dovete sapere è che tutte le erbette tintorie o le erbette riflessanti devono sempre appoggiarsi su una pianta madre una pianta che faccia da supporto e questa la ritroviamo nella lausonia inermis comunemente conosciuto come lenne o lenne rosso questa pianta infatti contiene una molecola che appunto è il lausone che ha l'abilità di legarsi in modo diciamo permanente al capello alla cheratina del nostro capello al fusto del nostro capello in questa maniera rimane fissato alla nostra chioma infatti molte ragazze che poi ad esempio cambiano idea sul rosso che viene ottenuto tramite l'utilizzo delle ne hanno poi delle problematiche a toglierlo a coprirlo è molto difficile liberarsene quando poi diciamo così viene coperto ripetutamente con degli altri strati è possibile che comunque il rosso venga sempre fuori quindi state attente e mettete in conto che comunque si può anche vedere qualche riflesso nel corso del tempo purtroppo o per fortuna le erbette che potete utilizzare per ad esempio ottenere altre colorazioni vogliono per forza l'impiego della lausonia proprio perché è l'unica che si lega permanentemente al capello per cui se li volete castani se li volete neri in questo caso dovete sempre aggiungere una percentuale di lausonia alla ulteriore erbetta che avete scelto la lausonia inoltre gli spessisce i capelli li riveste creando uno strato protettivo li rende più robusti e difficili a spezzarsi infatti se utilizzate in modo ripetuto la lausonia nel tempo nei vari mesi nei vari anni vi accorgerete che i vostri capelli sono più doppi sembrano di più e anche la vostra massa complessiva sembrerà comunque un po più cresciuta e questo è uno dei tantissimi benefici che potrete ottenere utilizzando abitualmente l'ennè l'indigo è appunto una pianta che invece colora di nero o di blu astro non si lega permanentemente al capello per cui se volete ottenere un nero corvino come si deve innanzitutto vi lascio linkato qui in alto il video in cui vi parlavo di come ottenere il nero corvino utilizzando le erbe e quindi dal momento che non si lega in modo permanente dovrete sempre utilizzare una percentuale di lausonia nei vostri composti e se volete coprire i capelli bianchi dovete prima effettuare un doppio passaggio quindi prima ricoprire le radici bianche solo con lausonia fredda vuol dire una lausonia che ha un'origine pakistana o un'origine indiana e non egiziana o marocchina che invece danno un colore caldo un rosso caldo un rosso irlanda e poi fare ad esempio il giorno successivo o ad esempio dopo aver sciacquato la prima passata un secondo passaggio con una percentuale di lausonia circa il 20 30 per cento di lausonia e la restante parte di indigo l'indigo però va preparato in modo diverso rispetto alla lausonia la lausonia infatti può essere fatta ossidare per un arco di tempo variabile che cambia a seconda della temperatura che avete ad esempio nel luogo in cui preparate le n in estate potete anche non lasciarla ossidare per una finestra troppo ampia magari 34 ore preparandola con acqua fredda o tiepida mentre in inverno sempre preparandola con acqua fredda o tiepida dovete lasciarla ossidare per un tempo maggiore se ad esempio in casa c'è freddo se in casa c'è caldo è chiaro che non avrà bisogno di una finestra di ossidazione così ampia quindi dipende un pochettino se volete però tagliare la testa al toro vi consiglio di utilizzare l'acqua ben calda e procedere all'applicazione nel giro di mezz'oretta perché raggiungerà in modo più in fretta il picco tintorio detta così sembra complicatissimo ma vi assicuro che veramente molto facile insomma poi piano piano quando vi abituerete sarà abbastanza intuitivo l'indigo al contrario non vuole assolutamente l'ossidazione nel momento in cui viene aggiunto a una soluzione liquida emette nel giro di mezz'oretta il suo picco tintorio quindi diciamo il suo picco tintorio si raggiunge in modo molto più veloce rispetto all'enne e l'indigo vuole sempre essere preparato con una soluzione basica quindi dovete sempre aggiungere al vostro indigo un pizzico ma anche di più di bicarbonato quindi l'acqua deve essere basificata ovviamente se volete ottenere un nero corvino dovete indirizzarvi verso delle tonalità più fredde quindi non preparate l'enne con delle sostanze acide come il limone o come l'aceto io vi consiglio di lasciare queste questi addizionanti e diciamo utilizzarli per ad esempio preparare un tipo di colorazione rosso più caldo so che l'aceto fa virare il colore verso il freddo personalmente dopo tantissimi anni che usano n non ho notato nessuna variazione significativa nell'aggiungere l'aceto per cui mi sento di consigliarvi se lo volete fare fatelo ma non è necessario ve lo posso assicurare la cosa importante preparare correttamente anche l'indigo da una volta che avete unito l'indigo alla lausonia dovete applicare il composto nel giro di massimo mezz'ora e poi fare una posa di minimo due ore l'indigo non rilascia colore per tanto tempo la lausonia può rilasciare colore per tante ore e continua la sua ossidazione fino a 48 72 ore quindi comunque ha dei tempi molto lunghi la lausonia mentre l'indigo dopo due ore circa due ore e mezza tre ore a secondo anche della qualità della polvere smette di emettere potere tintorio quindi si ferma non colora più da lì allora potete decidere di risciacquare però è anche vero che visto che è unita alla lausonia potete comunque procedere alla posa anche per tre quattro cinque ore a seconda della vostra soglia di tollerabilità perché appunto comunque la lausonia continua ad agire e per ottenere dei colori che vi hanno su tonalità fredde il violaceo il bluetto il nero corvino ci vuole molto tempo addirittura sono raccomandate pose di sei ore otto ore o anche le pose notturne poi dipende tutto da quello che volete ottenere l'alcanna è un'altra erbetta riflessante in ambiente acido tende a colorare di porpora mentre in ambiente basico tende a virare su dei toni bluastri o comunque dei toni più freddi ovviamente non si lega al capello è un'erbetta non tanto tintoria quanto più riflessante quindi ovviamente utilizzata sempre in combo con le ne a seconda se aggiungete poi una sostanza acida o basica potete ottenere diciamo un colore che vira più sul caldo più sul freddo potete anche preparare in realtà un ottimo oleolito io in passato l'ho utilizzata per preparare un oleolito di alcanna rilascia un potere tintorio maggiore secondo me quando unita ad un olio fatta macerare per circa 40 giorni e poi aggiunta alle miscele è anche vero che essendo l'oleolito appunto a base di olio l'olio impedisce un corretto attecchimento delle erbe tintorie per cui magari potete utilizzarlo come un impacco oleoso pre shampoo e quindi come una sorta di maschera riflessante poiché va risciacquata però potete anche aggiungerla all'enne devo dire la verità a me non ha entusiasmato molto perché ho notato che non ha un grande potere tintorio per cui personalmente preferisco comunque optare per altri tipi di erbette anche l'ibisco va sempre mescolato alla lausonia ed è in grado di ottenere dei riflessi che tendono al rosa freddo quindi è ottimo per ottenere comunque un tono freddo delle tonalità che possono diciamo virare al violetto chiaramente sono sempre ragazze riflessi ok non possiamo parlare di effetti tintori che ad esempio possono essere comparati con una tinta che viene fatta da una parrucchiera cioè io voglio che voi comunque entriate nell'ottica delle erbe naturali e non pensate di ottenere un risultato tintorio riflessante e paragonabile a quello che giustamente potete ottenere con una tinta sintetica quindi sono sempre riflessi naturali non dirompenti delicati armonici che si coniugano bene con il vostro colore di base e poi una premessa importante che volevo fare ma che l'ho dimenticata quindi vi chiedo perdono il colore che ottenete attraverso l'utilizzo delle erbette tintorie dipende fortemente dalla vostra base di partenza se voi siete già nero corvino bello tosto sarà molto 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 difficile ottenere dei riflessi che sono visibili sui vostri capelli e comunque nessuna erbetta tintoria schiarisce al pari di una decolorazione per cui mi raccomando tenete a mente queste informazioni perché sono veramente molto utili vi evitano di spendere soldi inutili nel tentativo di provare a ottenere un colore che magari non potete riuscire ad ottenere perché avete una base molto scura perché comunque pensate magari di poter schiarire con l'herbet purtroppo questi sono obiettivi che non si possono sempre ottenere l'ibisco è una polvere che ha diciamo un ph più acido quindi non va molto d'accordo con il bicarbonato quello che vi posso consigliare secondo la mia personalissima esperienza e di prepararlo con acqua calda semplicissima e non vi consiglio comunque di aggiungere dei addizionanti ovviamente potete fare dei tentativi ovvio in questo mondo si deve sempre sperimentare non ci sono delle regole fisse quindi sperimentate e vedete un po se trovate il vostro mix mix diciamo ideale anche legno di campeggio che forse la mia erbetta riflessante preferite in assoluto nel mondo avevo anche fatto un video al riguardo lo trovate proprio sul canale in cui vi parlavo proprio del legno di campeggio il legno di campeggio ovviamente a seconda di come lo preparate ed è proprio un risultato veramente palpabile si comporta in modo totalmente differente a seconda che utilizzate l'aceto il limone l'allume di potassio e il bicarbonato io l'ho adorato ad esempio con l'allume di potassio e il bicarbonato l'allume di potassio è un sale però dovrebbe avere un ph acido anche se questo ph acido lo fa comportare in un modo differente rispetto al ph acido dell'aceto e del limone se utilizzato con il bicarbonato infatti il legno di campeggio diventa di una colorazione viola freddo è una colorazione stupenda che tra l'altro è decisamente tintoria c'è rimane proprio sulle mani il colore se vuoi lo toccate ad esempio con un dito è un viola molto freddo molto intenso e se aggiunto ad un ottimo n freddo i riflessi sono veramente belli se invece lo preparate con l'allume di potassio otterrete un viola caldo più diciamo con una punta il colore ricorda un viola con una punta di rosso all'interno è molto più caldo molto più corposo che dona veramente dei riflessi bellissimi stupendi quindi se volete ad esempio ottenere un mogano se volete ottenere un colore ciliegia corposo un ciliegioso bello strong legno di campeggio è preparato con l'allume di potassio se invece volete un violetto n freddo con legno di campeggio preparato con il bicarbonato ovviamente anche questa non si lega da sola al capello ha bisogno sempre delle n quindi mi raccomando anche la qualità delle n fa la differenza parliamo del guado il guado è un'altra pianta che io conosco veramente veramente poco non l'ho mai provato so che viene utilizzato per ottenere delle colorazioni che diranno sul bluastro però ha un potere tintorio inferiore rispetto all'indigo e costa decisamente di più rispetto all'indigo ed è decisamente più introvabile rispetto all'indigo e il guado viene impiegato più largamente per tingere ad esempio i tessuti la lana e mi sembra comunque che non sia particolarmente indicato per tingere i capelli anche questo ovviamente non si lega in modo autonomo al fusto si comporta comunque come l'indigo perché ad esempio scarica subito anche l'indigo scarica subito dovete stare molto attente quando utilizzate l'indigo perché è veramente antipatico mentre la lausonia si lega in modo permanente l'indigo dopo tre quattro lavaggi comincia ad andare via quindi mantenere il nero corvino è veramente un'impresa dovete andare praticamente ogni due tre settimane questo può portare a seccare i capelli il guado è ancora peggio perché ha un potere tintorio un pochettino inferiore rispetto all'indigo e ci vuole veramente un ottima polvere per ottenere delle colorazioni veramente belle veramente buone ovviamente se lo volete provare potete farlo tranquillamente anzi mi piacerebbe che scriveste la vostra esperienza riguardo all'eventuale insomma utilizzo di questa pianta perché non l'ho non l'ho mai provata la robbia un'altra erbetta che io ho provato in passato a seconda che la utilizzate con una sostanza acida una sostanza basica chiaramente cambia il risultato che volete ottenere il colore può virare verso il ramato se utilizzato una sostanza acida oppure verso un tono più freddo se utilizzate una sostanza basica ovviamente ha tutta una serie di altre proprietà sebo regolatrice rende capelli più forti e purificante da volume in realtà tutte queste piantine di cui noi stiamo parlando tutte queste erbette hanno anche queste proprietà noi oggi ci stiamo concentrando su un aspetto un po più tintorio però tutte le erbette riflessanti tintorie e aiurvediche hanno poteri nutritivi poteri purificanti sebo regolarizzano la cute quindi se avete i capelli molto grassi vi aiuta ad asciugare un pochettino la cute insomma hanno una serie di proprietà veramente invidiabili e la robbia è una un'erbetta molto apprezzata e secondo me però non tanto per i toni freddi io ho notato nella mia esperienza personale che la robbia tende di più a collaborare nella sua appunto capacità tintoria con i toni un po più caldi mattone un aranciato secondo me collabora un po meglio però potete comunque fare dei tentativi la parola d'ordine ragazze sempre sperimentare la cassia la cassia in realtà non è un'erbetta tintoria viene conosciuta anche a livello commerciale con il nome di n neutro ma in realtà non ha niente a che spartire a livello tintorio con lenne non ha potere tintorio non tinge ma sul lungo periodo la cassia può scurire il biondo quindi mi raccomando ragazze se volete ad esempio lavorare su una base già chiara e magari volete vivacizzarla e dei toni dorati più brillanti e accentuare ecco il vostro biondo la cassia non fa al caso vostro la cassia tende nel tempo a scurire il biondo l'opacizza un pochettino lo rende meno brillante quindi mi raccomando state attente se avete un altro obiettivo tintorio viene utilizzata infatti per rinforzare i capelli per renderli più corposi volumizzanti ed è ottima ad esempio quando volete diluire l'effetto tintorio dell'enne ad esempio se volete ottenere un rosso un po più blando e quindi diciamo diminuire la presa tintoria della lausonia utilizzate in combo la cassia così l'enne si diluisce nei capelli in questo modo il vostro rosso che che otterrete sarà un po più leggero curcuma era barbaro la curcuma sicuramente la conosciamo la abbiamo tutti noi in cucina o almeno la maggior parte di noi ce l'ha in cucina è un'ottima erbetta riflessante e tra l'altro è anche molto come dire tintoria anche la pelle ad esempio si colora facilmente utilizzando la curcuma in passato infatti io la utilizzavo e come sostanza depilatoria sul viso perché con l'uso prolungato ad esempio sulla peluria del viso e ha il potere di inibire la crescita pilifera ed effettivamente dopo tante settimane di utilizzo io avevo notato una diminuzione della velocità e della quantità appunto del della crescita dei dei peletti sul sul viso insomma poi in realtà dove essere onesta un po mi stufava prepararmi la ogni sera e stare in posa a massaggiare lì e quindi l'ho accantonata ma devo dire che mi ha portato veramente degli ultimi risultati l'inconveniente che tingeva il viso praticamente quindi diventava giallastro se volete ottenere dei colori molto caldi potete assolutamente aggiungerlo al vostro enne caldo un bel enne egiziano un bel enne marocchino con un cucchiaino due cucchiaini a seconda della lunghezza di curcuma fa virare il colore verso toni aranciati e la stessa cosa fa il rabarbaro ovviamente dipende tutto dall'enne che utilizzate dai tempi di posa dalla vostra base quindi non vi abilite se magari utilizzate la curcuma o il rabarbaro e non avete dei risultati perché magari i vostri capelli sono troppo scuri per fare risultare gli effetti di queste erbette il mallo di noce il mallo di noce anch'essa è una erbetta molto utilizzata ovviamente sempre in aggiunta alla lausonia perché anche questa erbetta non si lega in modo autonoma i capelli tende a fare raggiungere un colore castano quindi se utilizzate ad esempio la lausonia fredda con il mallo di noce potrete raggiungere una sorta di mogano che vira sul castano sino cioccolato no perché per quello c'è il katam una sorta di mogano cupo spento che comunque è veramente un bel colore ovviamente potete anche aggiungere poi altre erbette per intensificare un pochettino o per smorzare i riflessi castani e poter ottenere anche diverse varietà di di castano poi nei capelli ecco questo poi potete sperimentare un po voi ovviamente il mallo di noce se tende a scurire verso i toni legnosi verso i toni castani state attente perché chiaramente a seconda dei vostri obiettivi tintori può risultare un po antipatica e per ultimo abbiamo il katam il katam è una erbetta tintoria al pari dell'indigo ma rilascia un marrone intenso quindi è ottimo per coloro che vogliono ad esempio ottenere dei toni sul cioccolato è per un'erbetta che tende a farvi ottenere un castano freddo quindi dipende molto anche diciamo al tipo di enne che voi utilizzate dovete giocare chiaramente potete aggiungere una serie di altre erbette per ottenere dei riflessi melanzana ad esempio potete aggiungere la lausonia fredda il legno di campeggio se volete diciamo un melanzana vi consiglio con l'allume di potassio e poi un pochettino di katam così otterrete un colore castano che però vira sul melanzana spettacolare ovviamente ripeto ragazze dipende tutto dalla vostra base di partenza anche qui vale lo stesso discorso che ho fatto per l'indigo se volete ottenere un castano dovete prima fare diciamo un doppio passaggio in particolar modo se avete capelli bianchi io in ogni caso prima di utilizzare queste erbe io vi posso consigliare se tra l'altro avete i capelli che ad esempio non non hanno stratificazioni dn non siete abituate ad utilizzare le ne fate sempre un primo passaggio di lausonia mantenete in posa per 3 4 ore sciacquate e poi preparate un altro composto con il 20 30 per cento di lausonia e il resto o l'indigo se volete utilizzarlo per ottenere il nero o il katam se volete utilizzarlo per ottenere il cioccolato e procedete con questa seconda applicazione non vi consiglio di fare un'unica applicazione se non avete stratificazioni dn perché l'n se ne va perché il colore vi scivola via dopo pochi lavaggi quindi il mio consiglio spassionato e create sempre una base di lausonia prima niente ragazze questo è tutto quello che volevo dirvi riguardo alle ne e le erbe tintorie riflessanti ed io ho fatto una panoramica molto generale di quelle che sono secondo me le più importanti ci sono anche altre erbette che diciamo così sono anche interessanti ma lì andiamo nel campo delle erbe ayurvediche quindi che non hanno un proprio potere tintorio o riflessante ma che sono più utilizzate per la cura dei capelli per la cura della cute tipo il nim lam la anche lam la ha un discretissimo potere riflessante che va sul caldo però non viene annoverata tra le erbette riflessanti anche se dovete stare molto attente perché lam la ha il potere di fare virare il vostro rosso verso un rosso mattone un rosso caldo e poi insomma ci sono una serie di altre erbette che sono più indicate invece per la cura dei vostri capelli questo quindi è tutto quello che volevo dirvi riguardo a questo argomento credo e spero di non avere dimenticato nulla chiaramente ragazze ve lo dico sempre per qualsiasi domanda potete lasciare un commentino qui sotto al video se posso vi rispondo con molto piacere molto volentieri ovviamente io non posso che ringraziarvi per essere state qui con me e avere guardato questo video vi ricordo che potete seguire nero corvino anche su instagram e chiaramente se vi piacciono i miei video potete mettere like e iscrivervi al canale di nero corvino io vi aspetto al prossimo video sempre qui su nero corvino iscriviti al canale ciao